Ciao Massimo, che piacere risentirti, è un po' che non ci rivediamo. L'ultima volta ci siamo visti in Vaticano, ottobre 2021, e ora sono qui. Sono qui a Chicago da circa un anno e mi occupo sempre di neurotecnologia, al favore di pazienti che possono poi, spero, avere un miglioramento della loro vita grazie a queste tecnologie impiantabili. Qua negli Stati Uniti cerco di portare il mio background italiano e sono sempre felice di partecipare e cercare di aiutare i giovani che si occupano di questo, che vengono dall'Italia, la nostra istruzione è sicuramente unica. E ci sono anche qua tanti italiani che cercano di fare la differenza per migliorare la vita di persone con disabilità, utilizzando tecnologie veramente all'avanguardia. Quello che facciamo noi, per esempio, è di impiantare degli elettrodi nella corteccia sensorimotoria dei pazienti con lesione spinale in modo che possano controllare arti robotici e stracorporei in modo che possano interagire meglio con l'ambiente circostante. E un po', non so se conosci l'azienda Neuralink di Elon Musk, cerca di fare questo e anche qua cerchiamo di fare il nostro meglio. Ti mando un caro abbraccio dagli Stati Uniti e da Chicago. Ciao!